4,76 euro in più su un iPhone 5S da 32 giga, 3,54 euro in più su un iPad. Annunciati e minacciati per mesi dal fronte dei produttori, sono alla fine scattati a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto Franceschini i temuti aumenti sui telefonini. Apri pista la Apple Italia, che spiega di aver aggiornato il suo listino adeguando i prezzi alle nuove tariffe per il copyright previste dal decreto, ma è prevedibile che altre aziende seguono la scia. E su web impazza la polemica, con tanti che rinfacciano al ministro di aver sostenuto che l'aumento delle tariffe per il compenso agli autori non si sarebbe riversato sui consumatori. Ma Franceschini rilancia, dicendosi allibito per non dire indignato, così come la CIA, dove si stanno studiando reazioni e un consiglio di gestione verrà convocato a breve, mentre i sindacati gridano la vergogna. Apple comunque tira dritto e tramite il suo ufficio stampa fa notare che un analogo aumento c'era stato anni fa all'epoca del decreto bondi.